L'importante per un direttore è la preparazione. Oggi è quello che viene a mancare. I direttori si stanno sviluppando come funghi, come mushroom, crescono, arriva il tempo e crescono nei boschi, eccetera, eccetera. Non è che mancano i talenti, manca per i talenti il tempo di costruirsi, di avere una cultura, di avere un'esperienza. Oggi si corre subito. I direttori di 20 anni che dirigono La Nona di Beethoven, che è una delle pagine più misteriose di tutta la produzione betoveniana. Sono punti di arrivo della carriera e della maturazione di un musicista. Oggi si brucia tutto. L'orchestra... Io sono stato direttore musicale di diverse istituzioni. cominciando, abbiamo detto, Firenze, Londra, La Scala, Filadelfia, Chicago. Però in tutti questi anni, in tutti questi anni, io ho avuto un rapporto continuo, costante e, diciamo, privilegiato con la filarmonica di Vienna. Quindi, mentre io per anni sono stato dieci anni lì, diciannove anni lì, dodici anni lì, eccetera, con l'orchestra che ho amato e da cui sono stato amato, però l'orchestra che è stata proprio quella che mi ha costruito, con cui sono cresciuto, parliamo quest'anno, di 48 anni senza interruzione. E 48 anni senza interruzione con la filarmonica di Vienna e 48 anni senza interruzione al Festival di Salisburgo. Cioè, è un primato.